Mario Turco, lei fa parte del comitato scientifico di questa quarta edizione di Forum Pulire. Quali sono i valori che l'hanno spinta a partecipare nella costruzione di questa edizione? Sì, io ne approfitto per dire che siamo come CNA Imprese di Pulizia, siamo molto contenti di aver partecipato a questa edizione. Fin dall'inizio ci hanno convinto molto gli obiettivi di fondo di questa edizione di Forum Pulire e ne abbiamo scelto uno che ci sta particolarmente a cuore, quello dell'etica e della sostenibilità, perché è un tema, quello della qualità e dello sviluppo del nostro tessuto di imprese verso la qualità e verso la convinzione della sostenibilità che ci sta permettendo di attivare un processo di crescita professionale e imprenditoriale del nostro tessuto che è fatto prevalentemente da micro e piccole imprese.